ciao benvenuti a oggi parliamo di oggi parliamo di prima e dopo insieme ad emmanuele che vi voglio presentare subito ecco emmanuele ciao emmanuele facciamo una brevissima storia tu sei venuto in agenzia da noi e volevi vendere il tuo appartamento poi mentre stavi vendendo il tuo appartamento hai visto una casa che ti piaceva ma hai visto subito quello che poteva diventare dopo sì subito appena ho visto la casa mi sono già immaginato ovviamente non poteva essere allora io vedo tante case io entro nelle case però questa capacità sinceramente non ce l'ho io quando ho accompagnato la prima volta emanuele nella casa me l'ho descritta l'ho fatta vedere l'abbiamo girato emanuele ha iniziato a dirmi le caratteristiche che gli piaceva io capivo che lui vedeva quello che io non riuscivo a vedere sei stato bravissimo emanuele complimenti adesso cambio l'inquadratura e vi faccio vedere un po quello che emanuele è riuscito a fare eccoci qua siamo a casa di emanuele emanuele mi ha mandato alcune fotografie per dirmi guarda gialluca come è venuta bene e io ho preso l'occasione al volo non abbiamo preparato più di tanto ho messo le foto sul computer le volevo condividere nella nostra rubrica quindi emanuele qui abbiamo fatto l'ingresso si questo è l'ingresso un nuovo abbiamo fatto completamente con la porta calcolando che comunque abbiamo fatto tutto nuovo dal sottofondo dagli impianti siamo tutti subiti questa qui è solo una piccola parte diciamo bene e adesso inizia il prima e dopo vero e proprio adesso vi faccio vedere la zona della cucina prima e la zona della cucina dopo io che emanuele era in grado di fare una bella cosa lo sospettavo perché lui vendeva anche il suo appartamento e ho visto come aveva rifinito il suo appartamento è stato facile anche vendolo perché si presentava bene ed era fatto benissimo ma certo qui abbiamo una casa molto più grande e da più o tutto fare delle finiture ancora migliori questa è la cucina è venuta come pensavi sì è venuta come pensavo l'unica cosa io avrei messo una penisola però alla fine un ambiente più grande con la penisola in mezzo perfetto passiamo adesso ad una zona che vi faccio vedere dall'esterno perché era una parte della casa che non era ancora finita e lì io quando entravo dicevo questo qui potrà diventare tante cose vediamo un attimo cosa è diventato nelle mani di manure un bel soggiorno affacciato sul nostro giardino esatto con due belle porte finestre bravo bravo mi piace mi piace quindi tu ti metti qui e hai una bella sala si abbiamo fatto diciamo il salotto dove poi comunque abbiamo pensato di fare un angolo barbe competitivo adesso col tempo però si avevo già immaginato quando avevo visto queste due vetrate queste due porte diciamo avevo già immaginato la porta scorrevole una finestra fissa per poter vedere esternamente e ti dirò che sono soddisfatto perché quando piove vedi tutta la tua pioggia fuori quando c'è il sole di tramonti e quindi sono proprio bene molto bene molto bene andiamo avanti questa era la vecchia zona pranzo dove si mangiava nella casa e qui vediamo la nuova sala da pranzo io penso che se vengono due amici voi potete tranquillamente ospitarli non avete problemi adesso questa qui è sempre la zona salotto che adesso è in continuità con la zona pranzo quindi si può mangiare si passa nella zona dove si fa la piazza dove si può passare dalla zona pranzo si può passare direttamente assoluto guardate ma che bello ovviamente avete fatto tutti seguiti dal tecnico sì l'idea è praticamente tutta nella mia testa e quello che si è quasi aveva dovuto mettere in mano alle tecnici a un'impresa per cui non riuscivo a fare tutto il personaggio anche come tempistico perché due mesi e mezzo circa abbiamo demolito e riconquistato quindi non è che ci vogliono degli anni in due mesi e mezzo emanuele si è rifatto la villa a casa questo era il bagno al piano terra e questo è il nuovo bagno bello posso guardare il box doccia ha comunque la finestra hai mantenuto le caratteristiche generali però è cambiato totalmente l'ambiente questo è un'ambiente accogliente moderno mi piace il vecchio bagno al primo piano e questa è diventata una sala bagno si è sempre un bagno grande prima dovevo fare delle modifiche perché comunque se inizialmente era al centro del bagno abbiamo pensato di spostare vicino alla porta ma abbiamo dovuto buttare giù la parete devo dire la parete è di fare diciamo spostare un po' la porta verso destra in modo che ci stassi alla doccia dietro e così il bagno diventa più spazioso perché le docce spostate all'estremità del bagno in un angolo creano veramente tantissimo spazio all'interno degli ambienti la zona disimpegno del primo piano prima e dopo bravo abbiamo mantenuto il primo franco e l'azione di tanto piccola studia per inizialmente abbiamo mantenuto il primo piano molto grande e quindi abbiamo mantenuto un po' come all'inizio per fare la fotografia è stata abbassata anche la finestra ma è anche un ambiente ricco di luce quindi effettivamente quella zona lì della scrivania verrà utilizzata anche proprio come scrivania perché ci sarà sia la luce naturale che poi dopo anche quella artificiale bene questa è un'altra visione sempre del disimpegno del primo piano a me piacciono molto anche i pavimenti e certo devo dire la verità grazie grazie veramente sì insomma il nostro sentimento dell'interesse con c'era nato effetto degno e al resto l'interesse con c'era nato di questa lì sotto le quale ne siano 60-50 sì sono questi formati attuali grandi che rendono ancora più grande anche l'ambiente anche se non ne dovesse che ha bisogno le camere da letto la vecchia camera la nuova camera esatto qui abbiamo messo anche i cuoricidi non so se è tutta la farina del tuo sacco io ho provato in più lo so che ho fatto ovviamente cosa che sono non so che sono molto ah ah però no è vero guardate che belli ambienti che sono venuti che belli ambienti che sono venuti che belli ambienti che sono venuti sempre la camera singola la vecchia camera matrimoniale la camera padronale e questa è la nuova e questa è la nuova benissimo 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 è stata un po' un'improvvisata è stata un po' un'improvvisata io ringrazio tantissimo Emanuele che è venuto a trovarci che prima mi ha mandato le foto poi quando io ho suggerito dai facciamo un bel prima e dopo a oggi parliamo di è stato entusiasta ed è venuto quindi grazie per aver collaborato Emanuele noi salutiamo tutti quanti ciao a tutti ciao 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 benissimo questa puntata di oggi parliamo di prima e dopo con Emanuele terminata vi ricordo solo i nostri tre click che ci piacciono tantissimo mi piace sotto al video che state vedendo se mi piace sotto al video che state vedendo seguimi sulla nostra pagina Facebook iscrivimi nella nostro canale YouTube ciao